Sono indignato, i servizi sociali alla persona da decenni fiore all'occhiello del comune di Fano con prestazioni uniche per promuovere una cultura sulla disabilità stanno per essere soppressi. Così il consigliere comunale di insieme per Fano Davide Del Vecchio che denuncia la scelta della giunta seri. Sono indignato perché l'amministrazione comunale, la giunta, questa giunta di sinistra ha tagliato in maniera molto pesante tutti i servizi nel sociale, nel particolare tutte le borse lavoro per i ragazzi diversamente abili e soprattutto ha tagliato una fetta del fondo che va al centro Itaga, il nostro centro, il fiore all'occhiello di Fano che è proprio vicino all'aeroporto. Ovviamente comunicandogli adesso che è maggio, ma un fondo che manca da dicembre, quindi cinque mesi sono stati zitti, adesso è arrivato maggio, non capisco perché c'è stata questa comunicazione che si voleva ovviamente tenere nascosta. Ma non è finita qui, dice Del Vecchio, infatti per quanto riguarda le 90 borse lavoro e di integrazione sociale per diversamenti abili che sono programmate con contratti trimestrali e semestrali rinnovabili, in data 30 aprile è stato comunicato alle famiglie dei ragazzi che sarebbero state soppresse dal primo maggio. Dopo le proteste delle famiglie sono state solo in parte prorogate di un solo mese, proprio sino alla data delle elezioni. Inoltre prosegue l'ex assessore, anche il servizio alle serre, fiori e piante della zona aeroporto in via San Michele è sospeso al 31 maggio e nient'altro ci è dato sapere. Credo che sia molto grave perché in questa città c'è sempre comunque stata una grande sensibilità verso la solidarietà e tantissimi servizi di integrazione per le persone che sono diversamente abili. Quindi da questo punto di vista è molto ricca la nostra città. Mi spiace vedere, per questo sono indignato, che venga tutto buttato all'aria facendone poi alla fine una questione di qualche soldo, perché non parliamo di cifre enormi sul quale non dover contare. Del Vecchio ha presentato oggi una mozione per chiedere al Consiglio Comunale non solo di ripristinare i servizi, ma anche di avere responsabilità e senso civico. La cultura sulla disabilità, concluso, è una questione seria e non può essere usata per le elezioni regionali né per le poltrone della sinistra che governa la città. Per scelte politiche, perché alla fine sono scelte politiche, di fare una cosa piuttosto che un'altra, si vanno a penalizzare diversamente abili e questo francamente mi indigna molto. Non verranno soppressi, ma modificati. A ribattere a Del Vecchio l'attuale assessore ai servizi sociali, Marina Barniesi, che pone l'accento sui tagli ingenti da parte della regione. Diciamo che mi sorprende il servizio che è stato fatto oggi, le comunicazioni del consigliere Del Vecchio, perché lui ha conoscenza di un cambio epocale in ambito di welfare nella regione Marche, perché è stato fatto un taglio di 29 milioni di Euro. Però, nonostante questo, che colpisce tutti i comuni e tutti i servizi della regione Marche, noi abbiamo cercato di mettere a disposizione dei fondi del comune di Fano per far fronte ai tagli regionali e quindi non verranno soppresse le borse lavoro, non verranno soppresse i servizi. C'è stata una riformulazione del tariffario regionale sui centri semiresidenziali e residenziali. Questo ricomporterà una verifica della offerta, ma assolutamente è una priorità per noi.